Buon salve a tutti, io sono Shanti, benvenuti o bentornati sul mio canale! Sono tornata dal Giappone letteralmente due giorni fa, voi come state? Io sono stanchissima, devastata, è sempre bello andare, ma è un tour de force. Avete in mente quel tipo di viaggio per cui vi serve un altro viaggio per riprendervi? Cioè tipo una vacanza per riprendersi dalla vacanza? Per come vivo io le cose è così. In realtà è stato super bello, ho portato per la mia seconda volta un gruppo di miei follower in Giappone, era un gruppo veramente bellissimo, tutti super carini, mi sono divertita un sacco e... Non lo so, c'è sempre questa malinconia dopo, quando si passano dieci giorni insieme e si condividono così tante cose, poi separarsi è difficile, quindi sì. E poi io ho fatto tipo cinque o sei giorni da sola a Tokyo, e quindi ecco ho passato tipo due settimane a Tokyo e quest'anno pensavo di non comprare niente, ma non è stato così, surprise! Quindi questo video sarà lungo, preparatevi! Prima di cominciare a che cosa vi voglio dire, assicché ho organizzato un nuovo viaggio di gruppo per ottobre, sempre in Giappone, ma questa volta faremo Tokyo, Kyoto e una tappa speciale in mezzo, ovvero il Parco Ghibli, è una cosa che ormai l'avrete capito, a me piace moltissimo, mi piace così tanto farvi scoprire i miei posti del cuore, che siano delle stradine, dei negozi, dei ristoranti e vedere gli occhi delle persone che si illuminano quando sperimentano il Giappone per la prima volta, ma non solo, per me ha veramente un valore enorme e quindi sarà un bellissimo viaggio, faremo anche Halloween a Tokyo, figata! So già qual è il mio costume, ve lo dirò! E quindi niente, se vi piace l'idea di venire in Giappone con me, vi lascio nella descrizione il link al sito di Echo Way, che è la nostra super agenzia, lì ci sono tutti i dettagli, potete comunque scrivere a me o a loro se avete dei dubbi. E saremo come sempre accompagnati dalla mitica Mary di Wild at Earth, che è una tour leader fantastica, è una persona meravigliosa e rende ogni mio viaggio migliore. Detto questo, ecco, procuratevi una tazza di tè, dei biscotti, qualcosa, perché sto osservando a volo di uccello tutti i miei acquisti e sono preoccupata. Ho la sensazione che siano acquisti un po' diversi rispetto alle altre volte, però mi direte voi. Ah, e una notizia un pochino triste, quest'anno non ho fatto il vlog di me a Tokyo, volevo, avevo cominciato a farlo, ma poi mi sono ammalata, sono stata veramente male, mi sono comunque forzata di fare cose, uscire di casa, però comunque vloggare mi richiedeva una presenza mentale, una concentrazione che in quel momento, cioè, non avevo. Mi dispiace tanto, avrei tanto voluto immortalare vari momenti, ma rimedirò a ottobre. E rimedio con questo video che sarà lungo come 10 vlog. Ok, ho cacchierato troppo, cominciamo, vado a caso, perché qui c'è il caos più totale. Cominciamo proprio così, a bomba, da una cosa che secondo me non piacerà a nessuno tranne che a me. Ma va bene così, lo accetto. Questo è uno zaino ratto, è uno zaino che io pensavo fosse vuoto, in realtà è bello ripieno e non c'è spazio per molto. Ho scoperto questa artista giapponese un pochino prima del mio viaggio, l'ho contattata, ci siamo messi d'accordo di trovarci per la consegna dal vivo. Lei mi ha anche proposto di andare a mangiare insieme, infatti mi hanno fatto questa cena insieme, siamo andate a fare le puricure insieme. Super carina, una ragazza veramente super carina. Mi ha anche regalato una collana a Topo, che in questo momento non so dove sia, ma quando salta fuori ve la faccio vedere. E quindi sì, questo l'ha fatto lei. È il mio acquisto più costoso di questa vacanza, ma secondo me merita ogni centesimo. Non vedo l'ora di usarlo, è morbidoso, si può anche usare per dormirci. E gli devo dare un nome, aiutatemi a dargli un nome. Secondo voi ha la faccia da... Oh, my sweet baby. Quindi ecco, è un anno abbastanza di borse, vedrete. Io prima di partire in realtà mi ero fatto una lista sul telefono delle cose che volevo comprare, perché volevo essere a girl on a mission. E in realtà ho trovato molte delle cose che volevo, più degli extra che non erano calcolati. Tipo uno zaino a forma di ratto. Ma va bene così. Allora, oh sì, ho scoperto questo negozio meraviglioso su cui voglio fare un reel, perché ho fatto diverse clip. Se sentite il rumore di strani alla vasto video, scusate. Che si chiama Fantastica ed è nel quartiere di Koenji, che è insieme a Shimokitazawa il quartiere con i negozi dell'usato, eccetera. Però Fantastica ha cose fantastiche. Ci sono tutta una serie di gadget, cose, oggetti con quell'estetica un po' vintage pop. Creepy cute. No, in realtà non è così creepy, però... Ad esempio ho scoperto l'illustratrice Natalie Lete. Lete? Non so come si legge. Credo che sia franco-giapponese lei. Cioè, metà francese e metà giapponese. E ho preso un sacco di cose sue, perché è bellissimo. E credo che, appunto, sì, esatto, Natalie Lete. Questa coperta è sua e questo è uno degli acquisti di cui sono più felice in assoluto. Non so se riesco a farvela vedere bene. Magari dopo faccio un'altra clip dove ve la faccio vedere meglio. Lala! Bellissima! E una persona tra di voi, sotto al video del apartment tour temporaneo, mi ha detto perché non metti tipo un arazzo sopra il divano, che io non so cosa mettere. E in realtà questa l'avevo comprata come una coperta, però poi ho letto quel commento e ho detto no, questo, cioè, sembra fatto per essere un arazzo. Cioè, e sono così casata all'idea di appenderlo. I colori sono perfetti, sono esattamente tipo i colori del tappeto e del divano, giuro. Cioè, questo era veramente un segno del destino. La adoro, non vedo l'ora di appenderla. Grazie a persone che mi hanno consigliato questa cosa, mi hai cambiato l'esistenza. Poi, oddio, non so dove partire. Allora, una scatola fatta a mano da non so chi, che non so ancora per cosa userò, ma mi piaceva e mi piacevano i dettagli. E è fatta così. E dentro è rosa shocking, infatti non l'aprirò molto spesso perché mi fa male agli occhi, ma... Niente, era carina. Servono sempre i contenitori nella vita per contenere le cose. Questa e altre cosine, shockine, inutili, le ho prese. Prima si chiamava tipo Garage, è a Shimokitazawa, è un negozio dell'usato dove c'è anche una parte di tanti piccoli quadratini. Ognuno è uno spazio per un artista diverso, che fanno tendenzialmente gioielli e gioiellini. E adesso ha un altro nome, ve lo scrivo, Toyo o qualcosa. Ci sono due negozi, fate attenzione, credo che forse c'è in entrambi però questa sezione. E niente, questo era lì. Piattino coniglio, sempre di Nathalie Letè. Non so ancora per cosa usarlo, ho paura di usarlo in cucina, ho paura che si rovini. Però in realtà anche appoggiarci tipo degli anellini, delle cose, fatto in maniera delicata magari si può fare. Tanto carino. E qua mi sa che siamo nella sezione fantastica, per farvi capire il vibe. Qua di questo quadernetto, fatemi togliere la plastica che si vede meglio. Mi sono sforzata ad ogni acquisto a chiedermi per cosa lo userai? La scatola in effetti non so ancora per cosa usarla, però questo voglio usarlo per le mie idee dei social. Anche se forse è un po' sprecato, non lo so. Non voglio una cosa che poi devo buttare perché... Ah no, poi le pagine sono bianche dentro. Non lo so. Vabbè, insomma. Ditemi che non è bellissimo. Guardate questi gattini cosa hanno ai piedi. Come on. Stupendo. Mi fa impazzire. Avete capito il vibe di questo negozio? Ho scoperto Nathalie Letté in realtà al piano tipo meno uno del Nakano Broadway, che è questa specie di... Non lo chiamerei centro commerciale, però... Sì, questi piani a Nakano, tendenzialmente dedicati a cose nerd, anime e manga, ma non solo. Con un sacco di chicche vintage, cioè non è tipo una chiabara dove ci sono tutte le cose nuove tendenzialmente. Nakano Broadway è più misterioso, giri l'angolo e non sai dove capiti. E niente, al piano sotto c'è questo negozietto che ha varie cose, tra cui una sezione di Nathalie Letté, che ho scoperto. E ho preso questa borsina. Mi avevo anche chiesto su Instagram quale prendere, perché l'ho deciso tra questa e un cagnolino, ma ovviamente l'orsetto Creepy vince. È l'anno delle borse. A proposito, anche questo non piacerà a nessuno se non a me, ma va bene così. Sempre lì ho preso questa. Che però è fatta più così a saccoccia. E mi piace perché cercavo proprio una cosa del genere e trovo che sia così carina ed inquietante con questa tipo testa di bambola. Mi piace un sacco. E andrà benissimo con un cappotto che ho trovato, che è uno dei migliori ritrovamenti mai fatti. Ci arriviamo dopo. Anche questo, Nathalie Letté. Sempre lì ho preso la mia nuova borsa della spesa. È una borsa così grande di tela, però con tutti questi disegni bellissimi. Super comoda, l'ho usata anche in Giappone per portare le cose very comfy. Volete mettere, fare la spesa con questa. Sempre lì ho preso due paia di calzini con dei gattini. Cioè questo e questo. Quali preferite? Sono così carini che ho paura ad usarli. Ah, sempre al Fantastica ho preso questo specchietto. Questi siete voi? Cute. Nuovo negozio preferito. Anche se The Virgin Mary forever in my heart. Era il mio negozio preferito a Tokyo. Ha chiuso l'anno scorso. Sono molto felice di averlo visto per un'ultima volta. Ah, poi! Ah, no, 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 no. Non ha bisogno di presentazioni, vero? Sempre al Fantastica. Era una vita che lo cercavo. L'ho anche pagato molto poco. Pensavo che fosse una cosa rara e difficile da reperire. Invece, secondo me anche lui però ha bisogno di un nome. Non lo so. Ma lo trovo veramente bellissimo. Non vedo l'ora di decorare la mia casa con tutte queste cose nuove. Dicevo, ho scoperto un caffè bellissimo grazie a Bea. Bea Fairy Cat. Che è il caffè di Peter Rabbit. Se conoscete Beatrix Potter, conoscete questo personaggio e i vari personaggi che lei ha creato. E in Giappone adorano i caffè tematici. Non mi sembra vero che esista questo. È una cosa bellissima. Ci sono stata. Ed è veramente molto molto carino. E si mangia anche bene. Ho mangiato una cosa veramente deliziosa. Era la versione vegetariana di un piatto inglese perché è tutto un po' a tema british. Niente, è molto tenero e c'è anche uno shop ovviamente perché devono pur monetizzare. Dove ho preso questo fazzolettino che in Giappone vanno tanto perché nei bagni tendenzialmente non hanno cose per asciugarsi le mani. Ognuno porta il suo. Quindi ho preso questo, molto cute. Ho preso delle bacchette a tema Peter Rabbit. Ho preso due mappette che forse in Italia non si dicono mappette ma va bene così. Questo qua con i gattini. Sicuramente mi sto perdendo dei pezzi per strada ma lo accettiamo. Se saltano fuori altre cose lo scopriremo. Calzini. Ho preso queste. Convinta che arrivassero al ginocchio invece no. Ma va bene così. Servono sempre calze bianche. Ho preso da Tutuanna un sacco di cose in realtà ma partiamo dai calzini. Tutuanna vende mutande, reggisene, calze e pigiami in alcune sedi. E spesso troverete questa cosa di tre paia di calze 1000 yen che sono all'incirca 6 franchi, 6 euro. E quindi ho preso questi qua. Con questo bellissimo color menta il fiocchetto. Questi qua rosa sempre col fiocchetto. E queste azzurre con le perline. Poi ritorniamo da Tutuanna perché ho fatto scorta di pigiami per il resto della mia esistenza. Ho preso questa perché a quanto pare, non so se è una moda generale o in Giappone, però si trovano varie tipo bandane di questo tipo. Che tra l'altro sta molto bene con il mio nuovo maglioncino di cui vi parlo dopo. Forse dovrei fare il video così. Honestly cute. Molto carino. Mi sa che rimarrò così finché non mi darà fastidio. L'anno scorso ne avevo cercato uno e non avevo trovato niente che mi convincesse. In Giappone, per chi ha ancora la tessera fisica per la metro e i bus, vendono delle cose in cui tenerla a portata di mano, così non devi ogni volta tirar fuori e fare bip. E ho preso questa qua di Mofusand che è un gattino di cui mi sono innamorata l'anno scorso che va molto di moda in Giappone. E niente, qua c'è dentro la mia tessera. E ho preso anche questo piccolo tipo charm che va insieme, sempre con Mofusand vestito da coniglio. E attaccato c'è anche questo Sinnamoroll che mi hanno regalato i miei ragazzi del gruppo di quest'anno. Hanno regalato a me e a Mary un piccolo peluche e una foto stampata e una letterina. Sono stati veramente molto carini, quindi ci senevo ad averlo con me. Poi, sempre di Mofusand, ho preso delle nuove pantofole perché quelle che ho comprato l'anno scorso mi si sono sfaldate tutte. Un po' perché sono fatte di cartone, un po' perché probabilmente le ho lavate nel modo sbagliato. C'è Mofusand, sempre in versione coniglietto che a quanto pare è il tema di quest'anno, e una carotina e sono rosa. Anche queste sento che devo trattarle con cura perché altrimenti si sfalderanno pure loro. Poi, forse siete al corrente che mi sono appassionata al mondo delle miniature, cioè mi è sempre affascinata, però da qualche mese a questa parte mi ci sono messa dietro facendo i kit già pronti, quelli dove ti danno tutto e tu devi costruire le cose, non sono ancora un livello avanzato. Ma ho visto tutti questi kit a tema giappone o comunque casette giapponesi. Ho trovato questo che mi ispirava. Vediamo se riesco a farvi vedere. È carino. È tipo un negozietto di cose, ci sono delle maschere o un cagnolino e appunto all'interno ci sono tutte le robe per farlo. Tu devi ritagliare le cose, montarle, è un lavoro di super precisione e... Oh, delle coca coline. Oh, i sassolini, l'erbetta finta, le cose da attaccare tipo sul pavimento, sul muro. Adoro. È una cosa che trovo estremamente meditativa. È bello tipo non avere schermi, essere soltanto concentrato sul momento presente perché sono cose talmente piccole che se non fai attenzione sbagli. E niente, trovo che sia un'arte dimenticata. In realtà devo ancora finire la mia vecchia casetta, però almeno poi ho subito pronta questo da fare. Alexia Variaren mi ha consigliato questo smacchiatore perché quando siamo andate insieme a vestirci con il kimono io per sbaglio ho sporcato il mio kimono e se ti beccano che hai fatto delle macchie devi pagare in più. Ma fortunatamente abbiamo comprato questo che non costava nulla e ho risolto in mente non si dica quindi penso che lo conserverò gelosamente e al prossimo giro lo ricompro perché è veramente ottimo. Ah, poi non so se vi siete accorti del mio trucco di oggi. Non ho preso praticamente niente di beauty quest'anno perché avevo una valigia sola pochissimo spazio, pochissimi chili e il beauty pesa. Però non so se vi ricordate che l'anno scorso avevo comprato questo fondotinta che era andato tipo super virale, tir tir e l'avevo comprato, credo che ci siano tre colorazioni base tutte chiarissime poi non ho capito se hanno esteso il range di colori non mi è chiara la cosa però di base erano tre, tutte e tre molto pallidi molto poco inclusivo io avevo preso quello di mezzo e mi faceva sembrare abbronzata quindi ho preso il più chiaro ed è quello che ho su adesso l'ho provato prima adoro come... cioè è veramente tipialla l'anima però sì, bisogna un attimo fare attenzione con i colori molto carino, mi piace veramente molto l'effetto poi sta per arrivare il momento delle cose piccole forse è meglio dopo sempre parlando di Alexia mi ha regalato questi tè perché ha detto che li ha visti i disegni la facevano a pensare a me trovo che sia una cosa veramente molto tenera da parte sua l'ho apprezzato molto, non ho il coraggio di aprirli, sono troppo carini quando siamo andati poi un giorno a Kamakura che è a un'oretta, un'ora e mezza appunto ci avevamo messo da Tokyo comunque bellissimo, vale super la pena se andate a Tokyo non potete non andare a Kamakura ci sono dei tempietti nascosti nella natura stupendi e abbiamo trovato una signora che faceva le ceramichine ci siamo anche fermati a parlare con lei è stato molto carino e molti di noi hanno comprato un ricordo delle sue ceramichine questo qua è il trenino appunto quello famoso di Kamakura con i ciliegi molto carino mi ricorderà per sempre di quella signora che a un certo punto si è messa a tirarmi i capelli non voleva farmi male non mi ha fatto così tanto male però era molto ammirata dalla lunghezza dei miei capelli cara poi siamo stati di nuovo per me alla Chicago Flower Park che è un enorme parco di fiori a un paio d'ore da Tokyo un po' più complicato da raggiungere rispetto a Kamakura ma fattibile con un po' di ricerca in anticipo siccome funzionano i treni e lì siamo andati tutti pazzi perché c'è allora da un lato è meraviglioso il parco poi in questo periodo siamo andati apposta perché c'era il glicina in fiore bellissimo ma hanno uno shop gigantesco con un sacco di cose meravigliose comincio a farvene vedere una parte però so che c'è altro lì sotto da qualche parte ho preso questo gattino che forse mi rendo conto non era veramente indispensabile prenderlo ma non lo so quando sei lì i fumi dei fiori ti entrano nel naso finiscono nel cervello e non capisci più niente quindi l'ho preso non so non so cosa dove lo metterò cosa ne farò forse lo darò ai miei gatti però sì credo che sia tipo una delle mascotte sempre lì ho preso hanno tutte le cose a tema glicine perché è tipo la loro fioritura di punta questi sali da bagno con questa signora molto carina al glicine e questi tipo sono buonissimi sono tipo di miele non so come sia possibile sono tipo i profumatori da mettere nei cassetti credo sempre al glicine oh ho trovato del washi tape di Peter Rabbit mi sembrava giusto farvelo vedere poi arriviamo anche alla sessione cartoleria dove mi sono contenuta se penso alla prima volta che sono stata in Giappone ho fatto veramente razzia perché mi rendo conto che non uso poi così tanto così tanti sticker però ne ho comprati comunque un po' ma un problema alla volta volevo delle cose carine per la mia cucina ovviamente essendomi trasferita da poco volevo rendere più tenera la mia cucina che è una delle zone della casa di cui sono più fiera e sapevo che il Giappone avrebbe rimediato le mie esigenze infatti ho trovato delle spugne carine sono un coniglietto e un gattino non mi dureranno purtroppo fino ad ottobre a meno che io le usi molto poco però esistono questi invece li avevo presi a mia mamma gli anni scorsi e è venuto a voglia anche a me sono praticamente degli stickers da appendere in cucina che ti permettono di attaccare le spugne al muro per asciugare tipo cioè attacchi lo sticker e poi attacchi la spugna così ah qua dice che anche per attaccare tipo asciugamani così come fa? non so come funziona però mia madre me ne ha sempre parlato molto bene dice che sono molto resistenti o li ho presi uguali era l'unico disegno che c'era io ho preso anche una spugnetta per la cucina a forma di fragola come fai? questi tra l'altro li ho presi da Daiso che è un negozio dove tutto costa 100 yen quindi 60 centesimi fantastico ovviamente è facile diventare pazzi anche lì dentro tra i vari posti mi piace veramente tanto questa cosa comunque forse sapete o vi ricordate che io ho questa tradizione ogni volta che acordo in Giappone compro un asciugamano dello studio Ghibli perché voglio che tutti i miei asciugamani siano dello studio Ghibli e questo è il terzo che porto a casa mi rattrista un po' che di asciugamani grandi non ce n'erano tanti quest'anno ed erano anche tipo più leggeri non so è cambiato qualcosa nella realizzazione dei loro asciugamani e c'erano soltanto asciugamani di Totoro e Kiki che sono i due che avevo già volevo variare ma a quanto pare no e quindi ne ho preso un altro di Kiki che è questo che vi mostro è molto carino però è molto diverso da quell'altro che avevo quindi tutto sommato sono contenta perché è molto carino e renderà le mie docce molto più piacevoli cioè semplicemente sapere che sto per asciugarmi con uno di questi asciugamani mi fa sentire subito meglio e quindi è una tradizione che intendo continuare a portare avanti molto morbido vestiti o cosine piccole vi faccio vedere le cose di cartoleria poi passiamo ai vestiti e poi facciamo alle cosine piccole allora dovete sapere che io quest'anno ho comprato una valigia nuova perché la mia vecchia l'ho usata veramente fino all'ultimo che cadeva a pezzi era proprio cioè si stava letteralmente staccando un pezzo da sotto e quindi ne ho dovuta comprare una nuova però quello che ho preso è nera e noiosa e quindi ho pensato comprerò degli stickers per renderla carina quindi ne ho comprato un po' di stickers però sono talmente carini che ho paura che se li metto sulla valigia si rovinino quindi stavo pensando di attaccarli sul computer non lo so ditemi voi che fare allora ci sono questi presi nello stesso posto della scatola inutile che mi fanno troppo ridere spero di riuscire a farvi vedere questo è diventato un po' un meme insieme a Mary perché c'è scritto we are the sheep che non ha assolutamente senso ma ci ha fatto veramente morire da ridere e c'è anche la pecorella confusa niente cioè capito Tokyo parla al mio cuore vi faccio vedere un po' degli stickers che ho preso la maggior parte di questi li ho presi da Don Quixote che è un altro di quei negozi che come ho detto ai miei ragazzi in viaggio con me è uno dei tanti luoghi del male che ci sono a Tokyo e in Giappone perché è un posto credo forse aperto 24-7 dove c'è dentro la qualunque e tu entri e devi comprare per forza qualcosa perché c'è qualsiasi cosa è tutto dovete viverlo per capirlo venite con me vi ci porto e vi terrò la manina e il borsello perché rischiate di spendere troppo e comunque c'è questa sezione di stickers dove al di là di tipo in questo caso è un anime conosciuto in Giappone però c'è anche una sezione tipo con gli artisti del mezzo una cosa del genere dove trovate anche il loro Instagram e scelgono degli artisti per fare degli stickers tipo questo che mi fa spaccare da ridere quindi si trovi delle cose veramente molto particolari e carine ma questo qua non c'entra questo è Mofusand in una lattuga questo che sembra il mio vecchio porta abbonamento Luca un gatto venne sempre apprezzato questi sono i miei stickers una cartolina di Peter Rabbit che mi hanno regalato al caffè questa è la cartolina letterina che mi hanno scritto il mio gruppo bello di quest'anno questa qua è una foto di noi a Kamakura con il Big Buddha guardate come siamo belli metti a fuoco guardate come siamo carini e dicevo queste sono un mix di cose che ho preso da Daiso in un giga negozio di cartoleria tranne questo no questi stickers li ho presi da fantastica ah e c'è anche questa cartolina di Arietti che è uno dei miei film Ghibli preferiti perché praticamente quando ero al negozio Ghibli mi mancavano pochissime decine di yen per arrivare alla cifra per chiedere il tax free che praticamente se sei straniero in vacanza turista puoi chiedere di toglierti le tasse e quindi la signora mi ha consigliato di prendere una cartolina che sono io per non farlo sempre da Daiso ho preso queste bustine con i gattini che hanno tipo una zip pensavo di usarli tipo non so o per fare dei regali o per tenere delle cose in borsa non so delle caramelle delle pastiglie delle cose può essere sempre utile non è dei gattini ho preso delle cartoline che in realtà intendo appendere al muro c'è questa di Mofusando che fa un picnic mi sembrava carino e poi queste qua che sono tutte lo stesso autore autrice non so chi sia devo indagare ma mi piaceva lo stile questa questa signorine vintage con gatti mi sento abbastanza descritta e poi ho preso sempre da Daiso questi stickers che siccome possono essere carini per tipo pagine di diario o cose simili troppo carino non ho saputo resistere e ho preso questi che non credo che sia la loro funzione base ma top per le unghie spero che si veda sono tipo delle gemstones anche versione perla perché veramente per 100 yen vorrei dire cioè mi faccio le unghie per due anni questo non mi ricordo dove l'ho preso ma erano tipo degli animaretti carini mentre alla cartoleria avevo preso questo set di tipo bigliettini con bustine perché erano così carini e questi stickers questi qua con dei gatti e questo con dei coniglietti e orsetti se vedete qualcosa vabbè mi sono comunque trattenuta a livello di cose di questo tipo quest'anno ok passiamo i vestiti e poi arriviamo alle ciugnate stupide finali non so dove partire allora tutuanna nel mio elenco di cose da comprare quest'anno c'era in assoluto pigiami perché io mi sono sbarazzata di varie cose che mettevo in casa barra di notte perché erano vecchissime cioè li mettevo veramente da 20 anni a questa parte se non di più 25 30 ecco e volevo sentirmi più carina in casa quindi ho preso un sacco di pigiami tutti da tutuanna tutuanna grande che lo trovate al sunshine city che è un centro commerciale che si trova nel quartiere di Ikebukuro un centro commerciale un altro di quei posti dove entri e ti perdi uno perché è letteralmente un labirinto e due perché hai talmente tante cose da fare che devi calcolarci una giornata intera ci sono veramente i negozi di qualsiasi cosa c'è anche un pokemon center io quest'anno non ho comprato nulla al pokemon center soltanto buste di carte sono rimasta un po' delusa dalla selezione non ve lo nego speravo di trovare qualcosa su pokemon concierge no i miei pokemon preferiti ormai ho tutto ho saltato degli orecchini di chandelure mi sono un po' pentita è che pensavo che non si sarebbero visti con i miei capelli scuri forse sì spero di ritrovarli a ottobre mi sono un po' pentita però per il resto non ho preso niente però ho comprato carte pokemon le ho già messe nei miei album non so se è una cosa che vi interessa vedere trovo che sia una cosa molto di nicchia quindi non avevo calcolato di farlo vedere nell'haul ma se vi interessa fatemi sapere non dico da arrivare a fare un intero video su tutte le mie carte pokemon però sono una grande collezionista colleziono tutte le carte dei miei pokemon preferiti che sono questi quindi sì passo molte ore nei negozi di carte è una delle cose che mi rilassa di più a Tokyo vestiti tutuana tutuana grande ikebukro sì tutuana la prima volta ho preso due pigiami poi sono ritornata allora qua ci sono delle cose da dire però perché ero di fretta e quindi non ho provato niente questo è stato un errore fatale perché questo l'ho visto e mi piaceva talmente tanto tipo il colore il design cioè guardate com'è carino questo verdino col colletto ho pensato no sarà troppo carino l'ho provato mi sta malissimo quindi questo verrà messo in vedita su Vinted devo stirarlo probabilmente perché così è veramente in condizioni pietose però purtroppo è il problema di non provare le cose sempre lì nella mia prima tranche di pigiami ho preso anche a scatola chiusa questo che però invece mi piace come mi sta che è fatto così molto semplice in realtà però lillino carino un po' tipo pigiama da hotel non so come dire però sì questo mi piace pantaloni lunghi i pantaloni non hanno le tasche which is not my favorite però è molto morbido sono molto carini e hanno veramente dei prezzi contenuti quindi tutuana è sicuramente una nuova tappa fissa per i miei viaggi a Tokyo e poi appunto quando sono tornata ne ho presi qualcuno d'altro innanzitutto perché avevano delle magliette con le mie iniziali cioè quando mi ricapia di trovare SB doppia è una cosa talmente specifica e quindi ho preso due magliette con le mie iniziali questa qua azzurrina e questa qua rosina cioè io sono tornata apposta perché per questi pigiami ho preso il pantaloncino che va apposta con quello rosino ho preso un pantaloncino azzurro che non è esattamente lo stesso azzurro ma ha un senso che si può mettere insieme però in realtà c'è questo piccolo simpatico dettaglio summer holiday con i canetti perché c'è la maglia color panna con gli stessi animaletti e la scritta è del colore dei pantaloncini quindi ho pensato quei pantaloncini li posso mettere sia con questa che con quella di SB doppia I'm smart e poi ho preso in realtà questo nella prima tranche dei pantaloni immorbidi tipo da tuta da casa azzurri spero che si veda che sono azzurri perché c'è un sacco di sole molto carini questi con le tasche e insieme a questi avevo pensato da mettere ho trovato sempre da tuto Anna questa canotta tipo canottiera con reggiseno integrato però mi fa sentire un po' strana questo devo decidere se tenerlo oppure no mi piaceva perché aveva anche questo piccolo dettaglio di decorazione qui davanti però non sono convinta di come mi sta quindi questo vediamo se lo vendo comunque vi lascio il mio vintage qua sotto se mi ricordo se non ricordate mi trovate comunque come Shanty Leaves anche lì perché come al solito dopo il Giappone io mi pento degli acquisti o scopro che mi stanno male le cose e questo succede ci sarà un altro pezzo ve lo faccio vedere direttamente questa magliettina toppino nero che purtroppo non mi piace come mi sta questa presa in un closet child che è un negozio fantastico dell'usato dove però non puoi provare le cose quindi è una fregatura vabbè non l'ho pagato molto però mi rompe comunque era tra l'altro era l'usato ma era nuovo avevo ancora i bigliettini attaccati e però vabbè è andato così quindi sezione pigiami fatta ok andiamo avanti con i vestiti allora quest'anno come è andato con i vestiti non male non è stata forse l'annata migliore ma ho trovato delle piccole chicche ho preso quasi tutto all'usato vi faccio prima a vedere le cose nuove ovvero da Uniqlo c'era la collezione per bambini di Mofusand e ho preso due magliettine ho preso questa qua gialla con loro ciliegini e questa qua rosa con i Mofusand fragoline very cute nonostante siano per bambini ho preso tipo delle taglie tipo 120 140 cioè perché le volevo strette quindi era fattibile sono molto contenta di queste magliette sono costate pochissimo tipo 5-6 euro quindi forse avrei dovuto prenderne di più ma va bene così lo spazio della valigia era limitato sempre nelle cose nuove ho finalmente trovato una gonna pieghe grigia questa qua l'ho comprata da Wigo c'erano un sacco di opzioni alla fine ho scelto su questa non so se ho fatto bene cioè molto bella però poi in realtà c'erano altre che mi piacevano però non volevo tornare a casa con tre gonne grigie quindi volevo l'effetto scolaretta e con questo funziona quindi top e la cosa bella è che la maggior parte delle loro minigonne hanno il pantaloncino integrato perché in Giappone credo che ci sia spesso questo problema del gente che guarda sotto le gonne e quindi è molto comodo anche perché spesso le gonne sono molto corte sì tutto il resto in realtà l'ho preso all'usato sì sì ho trovato molte vestaglie che io intendo mettere come vestiti ma capisco che non sia lo stile di tutti a me piace questo stile che in Giappone si chiama Cold Party è uno stile molto specifico che è nato in realtà nel negozio The Virgin Mary che prima si chiamava The Cold Party vabbè se volete un video su i sottostili giapponesi ne possiamo parlare però ecco secondo me è molto adatto a quel tipo di stile lì però sì dipende cosa sto ancora cercando di decidere quali tenere come vestiti quali usare come magari in casa come pigiama per me è tutto molto intercambiabile teniamo la chicca per ultima sta diventando si sta abbuiando ma mi vedete ancora vero? questo trovato da Closet Child è un cardigan lilla così che ha questi dettagli di perle con le rosine non costava tanto e mi piaceva come mi cadeva siccome è facile per fare del layering poi questo in realtà l'ho perché ho fatto 10.000 lavatrici ieri e ha perso un pezzo lo devo riattaccare ma è saltato il bottone questo vestitino azzurro che qua aveva un fiocchetto però si è staccato il bottone che teneva l'altra l'altra parte quindi devo riattaccarlo molto carino ma vi metto una foto di com'era quando era ancora integro poi sempre da garage il posto dove ho preso quelle cosine la scatola e poi altre cosine ho trovato un sacco di appunto queste camicie da notte ma veramente a pochissimo vedo che ad esempio questo sembra essere un market giapponese però il giappone importa tantissime cose americane non so perché hanno la pista con l'America e quindi secondo me è per quello che si trovano tante di queste cose qua comunque c'è lei che ha tipo cosa sono degli orsetti vabbè questo io l'ho messo fuori come vestito secondo me funziona capisco che non molte persone approveranno ma I don't care uh questo questo sono particolarmente contenta not gonna lie credo che sia appunto una camicia da notte però io l'ho usata come cappotto e secondo me è una bomba come cappotto spero che renda poi ve lo faccio vedere anche indossato ma ah questi fiorellini molto bello molto bello secondo me come cappotto top questa è un'altra camicia da notte c'è anche la signora delle camicie da notte questa non l'ho stirata forse avrei dovuto vabbè questa lilla fatta così ovviamente poi lunga fino ai piedi altra camicia da notte questa con i fiori e questo scollo così secondo me ecco tipo questo è proprio super adatto anche come vestito ah questo è letteralmente un vestito preso di nuovo in quel negozio dove non si possono provare le cose però costava veramente nulla questo vestitino giallino con i gattini mi piaceva troppo la stoffa non è il taglio che mi sta meglio in assoluto quindi vediamo se lo tengo magari per la casa se riesco a farci comunque qualche outfit però era troppo carino veramente troppo troppo carino ed è di Anc Rouge che è un bel brand giapponese quindi niente mi ha chiamata poi questo l'ho trovato da Kinji che è uno dei miei usati preferiti ha un pochino un problema di fit però mi piaceva tantissimo così il gingham rosso fa talmente tanto picnic non vedo l'ora di metterlo per un picnic e secondo me non è così grave il problema di fit alla fine con questi nastrini si riesce abbastanza a chiudere e quindi me lo tengo così com'è stesso identico problema per questo vestito sempre preso nel solito negozio dove non potevo provare le cose mi piaceva talmente tanto il tessuto vellutato così un po' a coste il colore la lunghezza che mi sono detta lo prendo chi se ne frega me lo faccio andare bene comunque sia non mi sta appunto perfettamente però adesso vedo se portarlo a tagliare e cucire oppure tenermelo così fatemi sapere che cosa ne pensate i vestiti in realtà siamo arrivati in fondo c'è la chicca secondo me va visto dal vivo per capirne la magnificenza quando l'ho visto io non ci potevo credere credo che sia una delle robe più assurde che abbia trovato in Giappone anche questa penso che forse in origine era una vestaglia non sono sicura o una vestaglia o un cappotto comunque io conto di usarlo come un cappotto era pazzesco a prescindere perché l'ho visto e ho detto what? c'è questo effetto meraviglioso non so se vedete come luccica questa stoffa stupenda con il dettaglio del pizzo sulla manica e poi ho visto che è di Dior what? allora è un po' rovinato non è proprio in condizioni perfette e dietro ha qualche macchietta però l'ho pagato tipo 60 euro e secondo me sarà un cappotto stupendo c'è immaginato con lo zaino ratto meraviglioso ma un cappotto di Dior 60 euro così stupendo what? e quindi niente sono sono ancora scioccata da questo find incredibile e quindi non ho parole lo tratterò veramente con tutto l'amore che ho perché non so quando mi ricapiterà di trovare una roba così incredibile detto questo rimangono un po' di cagatine ora vi spiego in che senso allora dovete sapere che io non ho molte dipendenze nella vita sono poche ma intense e sicuramente tra queste ci sono le mystery box e in Giappone gaccia mystery box sono ovunque ho preso queste tre non so se li conoscete i sonni angel sono i primi che prendo sono fatti così sono dei bambini con dei cappellini che detto così quindi sì non sapete che cosa trovate non li ho ancora aperti perché volevo fare tipo un reel o qualcosa su tiktok seguitemi su entrambi per scoprire che cosa ci troverò sono molto curiosa e mi gaso e sono una donna semplice sempre su questa linea ho scoperto pop mart che cioè sapevo che esisteva ma non ero mai entrata e questo è il luogo della perdizione per chi adora le mystery box e ho scoperto questa serie che si chiama Nyota Fluffy Life qualcosa del genere ne ho presa una ah è proprio questa qua la prima che ho trovato che è lei mi è piaciuto tantissimo subito il design questa qua si chiama Sea Love e poi volevo ricomprarla ma era soldato ovunque perché a quanto pare tutti l'hanno adorata poi sono riuscita a ritrovarla ne ho comprate altre due sono riuscite due che volevo perché c'erano varie con i gattini ad esempio non mi ricordo il nome di questa ce l'ho scritto da qualche parte però mi piace tantissimo il design bellissimo così il gattino e c'è questo che invece si chiama il nostro piccolo segreto Our Little Secret o qualcosa del genere dove c'è lei e qua c'è sotto il gattino e ta-da oh ho ritrovato la collana topo ti ti sempre della ragazza che mi ha fatto lo zaino questo qua era un suo regalo mi ha fatto veramente tanto piacere e è veramente molto bella e vorrei farvi notare questo topino agli occhi di rubino esattamente come il mio coniglio su questo dito agli occhi di rubino è o non è una coincidenza pazzesca? e poi sempre al parco quello dei fiori quello dove tutti noi siamo impazziti ho comprato questo scoiattolo perché in realtà erano lui e altri due fratelli e mi sono un po' sentita in colpa non aver preso anche i fratelli ma non potevo cioè sono pesante e occupa molto spazio e lui era quello che mi sembra più simpatico ora rimane questo sacchetto di cose piccole e probabilmente inutili ma carine andiamo in ordine sparso un misdravus in una pokeball un omino piangente che arriva dal parco una piccola cleffa gelato sì mi sono presa bene con i gacci di pokemon e Chandelure è una delle mie linee evolutive preferite un gattino appeso un gatto grasso che si è la scialla due animaletti presi al parco questo preso soltanto perché la scritta diceva flower pussy e mi ha fatto troppo ridere un cosino da attaccare da qualche parte preso nello stesso posto della scatola mi ha chiamata a terreno un'altra delle best lines da Wigo ho preso queste due mollette con i canetti un piccolo mofusanto vestito da pinguino due fiocchini per capelli cosino da attaccare molto sciocchino sempre al parco c'erano tutte queste miniature di animali e ho trovato questi due che sembrano i miei gattini quindi li ho presi i gaccia più introvabili del pianeta terra ho finito tutte le palline che c'erano al Nakano Broadway e tra l'altro questa è un'illustratrice che poi ho scoperto esserci da fantastica e non mi ricordo dove la scrivo ma fa delle cose meravigliose coniglietto occhi rossi faccina simpatica presa in un negozio di antiquariato al Nakano Broadway gattino con cuffietta preso al mercato dell'antiquariato di non mi ricordo dove ve lo scrivo nello stesso posto ho trovato anche questa spilla con questo coniglia dagli occhi rossi è uno dei temi del viaggio parlando di spilla non mi ricordo mi sembra a Kamakura di fronte a un negozio c'era una scatola con scritto gratis prendete pure uno a testa e ho scelto questa qua con questo clown un altro mofusanto questa volta vestito da coniglietto e ho finito incredibile ehi ah si io non vi ho parlato di questo top che sinceramente è una delle cose più carine che ho trovato di vestiti è di Fint che è un brand che mi piace molto ma quest'anno al negozio normale non ho trovato niente invece all'usato si adoro il colore e i bottoncini hanno delle rose sopra molto carino colore molto armoclomatico ho finito finalmente direte voi trovo che questo haul mi descriva come persona si mi piace molto la mia selezione ho esagerato si è probabile ogni volta mi dico dai questa era la mia quarta volta in Giappone ah no certa finiranno le cose da prendere no io non compro mai nulla quando sono a casa ma in Giappone divento una bestia una bestia di satana non capisco più nulla i soldi non hanno più valore il tempo non ha più senso e non mi controllo non mi controllo forse dovrei però vabbè sì c'è in realtà l'unica spesa veramente grossa è stato lo zaino e alcune attività che ho fatto di cui usciranno i reel però vabbè devo fare il content questa è la mia scusa per tutto quindi sì il bello di fare questo video è che mi scuso tutti gli acquisti che ho fatto in questa maniera fatemi sapere che cosa ne avete pensato che cosa sono le vostre cosine preferite non ditemi studiate qualcosa perché mi fate rimanere male e adesso non vedo l'ora in realtà di mettere tutto a posto di poter indossare e vivere questi oggetti di giorno ebbene io vi ringrazio per essere stati con me spero che vi abbia divertito questo video se volete venire in Giappone con me a fare anche voi spese pazze o anche un pochino meno pazze vi ricordo che vi lascio il link qua sotto al sito di Echo Way sarei tanto felice di portarmi nei miei posti preferiti a mangiare il mio ramen preferito oddio mi manca già meno male ottobre non è poi così lontano ma abbastanza lontano per risparmiare i soldi per venire con me bene grazie ancora e noi ci vediamo a un prossimo video vi auguro una magica magica giornata ciao a un prossimo video